Pietro è l'appostolo guida della prima comunità nascente a Gerusalemme, fondatore della chiesa di Roma. Il suo nome era Simone, chiamato in Pietro da Gesù quando gli disse tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia chiesa, a te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò, disse Gesù, che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi con queste parole Gesù gli conferì pieni poteri. Ebbe un fratello, Andrea, che gli fece proprio lui conoscere Gesù, famoso il suo discorso a Pentecoste, che vide tremila convertiti. Ma vediamo un po', chi è Pietro? Pietro è un uomo poco colto, senza preparazione scolastica, né conoscenza delle sacre scritture, di certo però è il più arguto tra tutti gli apostoli, curioso di imparare e impettuoso nei discorsi, tant'è che Gesù lo rimprovera spesso. Nonostante la sua fortissima devozione a Gesù, Pietro lo rinega per ben tre volte durante l'arresto e la crocifissione, per poi pentirsene amaramente. Pietro iniziò la sua predicazione a Gerusalemme. Dopo diversi anni, nel 41 d.C., portò il Vangelo a Roma, che era capitale dell'Impero. A Roma annunciò con coraggio il Vangelo, affrontando il carcere e il martirio. La morte di Pietro si colloca a Roma nel 67 d.C. ed è una delle tante vittime delle persecuzioni attuate dall'imperatore Nerone nei confronti dei cristiani. Venne crocifisso con la testa in giù per suo volere. Lo stemma. Le chiavi incrociate nello stemma della Santa Sede simboleggiano le chiavi del Gesù affidata a Simon Pietro. Le chiavi sono una d'oro e una d'argento e indicano l'autorità spirituale del pappato sulla terra. La corda con gli archi che uniscono le impugnature stanno a significare appunto i due poteri. La tripla corona rappresenta le tre funzioni del papa, come il supremo pastore, supremo maestro e supremo sacerdote. La croce d'oro su un globo sovrapposto alla tiara simboleggiano la regalità di Gesù. Vediamo adesso l'arte. Nel dipinto di Anibale Caracci vi è l'incontro tra Gesù e Pietro. Il dipinto si intitola Quo Vadis. Secondo gli atti del martirio di San Pietro, Pietro fuggiva da Roma dopo essere evaso dal carcere Marmertino per salvarsi dalle persecuzioni cristiane messe in atto da Nerone, imperatore romano. Durante la fuga, quando si trova sulla via Appia, fu ancora l'alba, avrebbe incontrato in visione Gesù che camminava in senso opposto verso la città. Pietro sorpreso allora gli chiese Domini Quo Vadis, ovvero Signore dove vai? E Gesù gli rispose vado a farmi crocifiggere di nuovo a Roma. La risposta di Cristo vado a Roma a farmi crocifiggere di nuovo era un rimprovero alla fuga di Pietro. Fu solo allora che l'Apostolo capì che doveva tornare indietro e compiere il suo destino, cioè il martirio. Fu crocifisso a testa in giù perché non si ritene degno di ricevere lo stesso supplizio del suo Signore. Nel dipinto di Anibale Caracci che possiamo vedere si coglie il contrapunto tra la figura decisa e maestosa di Gesù da un lato che gli indica Roma e quella esitante e smarrita di Pietro che si sente colpito da questa frase. Nell'altro invece vediamo la consegna delle chiavi del pittore italiano Perugino. Collaborò nelle decorazioni della Cappella Sistina Perugino con Botticelli dove dipinse la sua opera più famosa che noi la possiamo vedere qui. Si intitola la consegna delle chiavi, cioè la trasmissione del potere spirituale da Cristo a San Pietro. In questo modo giustificava il primato su cui si basava tutta l'autorità papale. A destra e a sinistra vi sono gli Apostoli e altri personaggi contemporanei all'artista. L'edificio centrale rappresenta il Tempio di Gerusalemme in forma chiaramente rinascimentale. I due edifici ai lati si rifanno alle forme architettoniche dell'arco di Costantino. La scritta latina celebra Papa Sisto IV perché è stato proprio Papa Sisto IV ad aver commissionato la costruzione della Cappella Sistina. Bene, anche questo pontefice fu importante perché Papa Sisto IV venne paragonato a Salomone perché come Salomone costruì appunto il grande Tempio di Gerusalemme. Vediamo i simboli. La chiave, la barca, strumento antico di lavoro ma anche perché ricordiamo che appunto Pietro fece il pescatore ma anche della missione conferitagli da Gesù, quella di essere non più un pescatore ma un pescatore di anime e metafora quindi della Chiesa. E poi un altro simbolo è il gallo per ricordare il suo rinnegamento di Gesù. La festa. La festa di San Pietro si celebra il 29 giugno. Papa Francesco, se il primo diremo Papa era San Pietro e l'ultimo e in ordine cronologico è Papa Francesco. È il 260esimo successore di Pietro. È letto alla sera del 13 marzo del 2013. Basilica di San Pietro. La magnifica Basilica di San Pietro in Vaticano voluta da Papa Giulio II nel 1506 in realtà è sorta su un'altra basilica più antica risalente all'imperatore Costantino. Le sue origini sono legate al martirio e alla sepoltura dell'apostolo Pietro che era giunto a Roma per confermare nella fede i fratelli perseguitati. Costantino dopo l'edito di Milano del 313 e di fronte ai pellegrini provenienti da ogni angolo dell'impero per venerare la tomba di Pietro decise di erigere una struttura più idonea capace di accogliere le reliquie dell'apostolo. Nel 329 consacrò nello stesso luogo la basilica. L'edificio era diviso in cinque navate da quattro file di 22 colonne ciascuna di dimensioni 90 per 60 metri. Però il complesso della basilica costituito anche dallo spazio posto tra le navate e la facciata detta nartice era più ampio e aveva una lunghezza di quasi 250 metri. Gli scavi svelano una necropoli sottostante con tombe pagane e cristiane e soprattutto hanno consentito di ritrovare quel piccolo monumento che indicava il luogo preciso della tomba di Pietro. Abramante appunto viene affidato il compito di ricostruire completamente la basilica e nel 1506 fu dato l'avvio. Completata, pensate dopo 175 anni e quindi terminata nel 1626. San Pietro è la basilica più grande al mondo, può cogliere migliaia di pellegrini. È lunga 190 metri e larga 58 metri. Grazie alla cupola di Michelangelo raggiunge 136 metri di altezza sino alla croce offrendoci una delle più belle panoramiche dalla città di Roma. Sopra la cupola vediamo una palla di bronzo ricoperta d'oro e pensate che questa palla che sembra così piccola da lontano può contenere fino 20 persone all'interno. All'interno si possono ammirare, all'interno della basilica, si possono ammirare grandi capolavori artistici tra cui la pietà di Michelangelo, il badacchino bronzo dell'altare palpale del Bernini, alto quasi 29 metri e avente un peso stimato di 61 mila chilogrammi. Molto amata dai pellegrini è la statua bronza di San Pietro Benedicente, datata tra il V e l'VIII secolo. È interessante notare che sotto l'area della basilica si trovano le così chiamate grotte vaticane, create alla fine del Cinquecento e che furono il risultato dei lavori realizzati per sostenere il pavimento della nuova basilica, precedentemente rialzato di tre metri. Oggi le grotte contengono alcune tombe di papi e monarchi. Bernini progettò infine il colonnato, pensate, 248 colonne disposte su quattro file alte 16 metri. Erano destinate ad accogliere in un abbraccio simbolico tutti i fedeli che qui arrivavano da tutto il mondo. Su di esse vennero poste 140 statue che appaiono minuscole a distanza, in realtà si tratta di statue alte 3,20 metri circa. Bernini ha dedicato i lavori di San Pietro oltre 30 anni, ovvero tutta la parte della sua carriera, dagli aredi più piccoli fino alla piazza antistante, dalle tombe dei papi fino al baltacchino dell'altare maggiore, dalle statue di bronzo alle nicchie dei pilastri principali. Bene, io ho terminato la mia lezione, spero sia stata utile e vi saluto. Ciao!